Questo Salmo 35 è di Davide nella chiave storica, nostra nella chiave personale e di Gesù nella chiave cristologica. Tutte queste cose fanno il Cristo totale. Questo Salmo chissà quante volte l'ha recitato Gesù, quante volte l'abbiamo recitato noi. E' Davide che l'ha scritto, che faceva sua la voce di Cristo e la voce di ogni uomo che abita sotto questo cielo. La voce di Gesù è la voce nostra. Questo Salmo ci coinvolge pienamente nella preghiera al Padre e si convonde la nostra voce con quella di Gesù, che invoca il Padre, quello che Lui sta vivendo, la liberazione, l'invocazione di Cristo e l'invocazione di ogni uomo che è soggetto a fare l'esperienza di essere tradito. Questo Salmo è un regalo meraviglioso che il Signore ci fa. Ci uniamo a questa parola di Dio perché è la voce di Cristo. In questo Salmo il nemico è il traditore. Il traditore è quello con il quale siamo stati amici, parenti, c'era un bel rapporto, un rapporto di affetto e ora invece ci colpisce, ci ferisce al cuore. Cosicché i primi tre versetti chiedono che Dio intervenga. Qui si vede tutta la debolezza umana, che di fronte a questi tradimenti che possiamo vivere nella nostra vita ci sentiamo spiazzati, abbandonati, ci sentiamo soli. Vorrebbe il salmista ascoltare Dio che parla, che possiamo sentire la sua voce e che Dio ci dice non ti preoccupare, sono io la tua salvezza, come vorremmo sentire questa voce? L'esistenza umana consiste sempre nel constatare la nostra grande, grande povertà e debolezza, soprattutto in questi casi. Il nemico ci sembra sempre più forte di noi, di fronte alla malvagità, a quello che noi non ci aspettavamo. Il Signore ci ama, ci ama tantissimo. E allora vorremmo che Lui combattesse questa battaglia per noi, che siamo così deboli, che se no saremo perduti di fronte a questi eventi. Già il versetto 4 dice Attentano alla mia vita, tramano la mia svendura. Qui si riferisce ad un'azione operata attraverso il tradimento. Qui infatti il versetto 7 dice Senza motivo ho ricevuto questo male. Tu hai fatto del bene, hai voluto bene e ricevi del male. Ecco perché dice Mi hanno teso una rete, io non me l'aspettavo. Quante volte ho sentito questo dalle testimonianze di fratelli, ma quante volte l'ho detto io, non me l'aspettavo. E così continuo questo Salmo. Mi hanno scavato una fossa, un tranello, una trappola. Non me l'aspettavo, è come una rete. E allora dice Signore, guarda, li catturi la rete che mi hanno teso. Che anche loro devono soffrire come io ho sofferto. E questa la risposta, quello che Dio dovrebbe fare? Oppure è la sapienza della croce? La croce per Gesù nella chiave cristologica doveva essere la vittoria dei traditori, la vittoria di coloro che hanno odiato Gesù senza motivo. È diventata proprio questa croce, la loro sconfitta, perché Cristo è risorto. Il salmista qui ancora non conosceva questa sapienza della croce. Tuttavia fiducia nel suo Signore, cosicché proclama la sua lode e dice Chi è come il Signore che libera il povero dal più forte, il povero e il misero dal malvagio? È il versetto 10. E ancora nel versetto 11-14 si descrive questo contrasto che c'è fra colui che prega con questo Salmo e coloro che lo hanno tradito. Sono questi testimoni violenti e insidiosi che rendono male per bene, ma queste parole le possiamo mettere in bocca a Gesù quando ha preso su di sé questi nostri tradimenti. Il salmista dice Io mi sono vestito di sacco condividendo nella prova con il digiuno, la preghiera, li ho guariti, condividevo il loro dolore, ma loro godono della mia caduta. Questa è la chiave cristologica. Gesù che ha preso la nostra realtà. Gesù è sulla croce, tradito dagli amici più cari. Era solo. Lo avevano abbandonato tutti. C'era solo sua madre e il discepolo Giovanni. Era solo nel buio, nel dolore. Tuttavia, lo sguardo di Gesù si pone su quelli che lo hanno rinnegato, su quelli che lo hanno dimenticato, su quelli che lo hanno crocifisso. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Lui perdona anche in quello stato di cose. Questo è il nostro Dio. Stiamo parlando di un amore senza condizioni. Non è che Dio ha perdonato in funzione dei meriti. Dio è amore. E non sa fare altro che amare l'uomo. Anche i nemici. Ecco perché lui dice Avete udito che vi fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico amate i vostri nemici. Pregate per i vostri persecutori. E così sarete figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Quest'amore è come un sole che illumina sia le piante belle ma anche le piante velenose. Lo so, è una logica che noi non possiamo capire. quest'amore incondizionato e totale verso tutti non lo possiamo capire. Nonostante i nostri tradimenti perché chissà anche noi abbiamo fatto soffrire persone senza neanche renderci ne conto oppure consapevolmente non lo so. I nostri tradimenti ma ci sono. Quante volte abbiamo voluto imporre il nostro ego le nostre convinzioni quante volte abbiamo scluso Dio dalla nostra vita per fare da soli da soli con un Dio assente nella nostra vita in una totale assenza di amore nel nostro cuore noi eravamo noi e solo noi e il nostro ego senza far entrare amore nel nostro cuore. Il salmista qui secondo la mentalità del tempo di fronte a questi torti chiede a Dio quello che lui considera giustizia che significa per noi umanamente ma chissà quando l'abbiamo pensato anche noi verso coloro che ingiustamente ci hanno attaccato significa punizione vendetta guarda signore ma fagliela pagare nel versetto 5 siano come pula al vento e l'angelo del signore li disperda la loro strada sia buia e scivolosa quando l'angelo del signore li insegue e questa la giustizia che vuole Dio questa il salmista grida fino a quando signore fino a quando starai guardare perché sei silenzioso sembri un Dio immobile ma sembra quasi che non non ci fossi perché se io grido non trovo risposta a questa seta di giustizia umana che ho e questo ci fa male perché Dio non mi risponde ma veramente ma Dio sta in silenzio il versetto 23 dice signore svegliati svegliati ma svegliati a che forse non risponde Dio perché è una risposta forse diversa quella che Dio ci dà dalle risposte che noi ci aspetteremo chi recita questo salmo invoca il suo aiuto lo riceverà lo riceverà la giustizia del Signore cambierà il cuore del salmista non quello dei suoi persecutori cambierà il tuo cuore non quello dei persecutori nel momento in cui noi alziamo i nostri occhi a lui per questo rapporto intimo di padre figlio di Gesù col padre e di noi col padre attraverso Gesù e se lo lasciamo agire farà giustizia ma la sua giustizia la vera giustizia la giustizia del cuore entrerà nel nostro cuore allargerà il nostro cuore quel senso negativo di amarezza di depressione di abbandono di dolore che a volte ci attanaglia questo lo farà svanire tutti gli uomini sbagliano feriscono noi inciampiamo tante volte riceviamo del male questo è vero a causa del peccato questo inevitabile chi non ha peccato dice fa bugiardo Dio quindi ci mettiamo anche noi fra coloro che hanno fatto soffrire gli altri il dolore può essere addolcito sopportato e perdonato solo grazie a questa azione divina se noi ci fidiamo di lui se noi lo lasciamo agire se noi lo lasciamo entrare nel nostro cuore e la nostra vita si trasformerà e la vittoria di Cristo sarà la nostra vittoria ho finito vi ringrazio per l'ascolto di questo salmo e vi voglio bene grazie a tutti grazie a tutti